Benvenuti a questa presentazione di accessori per la telefonina StoInternet. Grazie alla diffusione degli accessi a larga banda, tipicamente a rio stelle, la telefonina StoInternet, conosciuta con la sigla VoIP, VoIP e oggi il sistema più pratico e autonomico per telefonare in tutto il mondo e chiedendo il proprio computer. Uno degli autori principali, oltre che il precursore di questa offerta innovativa, è Skype. Grazie ad un semplice programma scaricabile gratuitamente dal sito di StoInternet, il PC, dotato di scuola audio e accesso internet a due scuole, diventa un'attività quadretto telefonico, per parlare con una potente scuola e non solo, presenti in tutto il mondo. Digicom offre due autori principali su StoInternet, per rendere facile e rapida la telefonata StoInternet, dal proprio computer. Il primo prodotto che vi presentiamo oggi è SiteTel, un teloso da USB, pratico ed elegante, con una tastiera e il display LCD, per poter risolvere e dimostrare tematico le fronte, a contesto di sinteragire con il mouse, con la tastiera del vostro PC. L'installazione è specifica, è vendata, rispetto al contenuto nel CD, che accompagna il prodotto, legge dal driver su un vostro programma Skype, già in precedenza estallato ed attivato. La lista dei contatti è visibile sul display LCD, e facilmente selezionare tramite gli opportuni tasti. Skype, supporto Skype, ombra Sermi, ombra Sermi e ombra Sermi. Il secondo prodotto di oggi è Skype, ombra Sermi, un dispositivo USB, dentro del livello, con qualche telefono di camera, anche color bluost, per ricordare, con il nostro lavoro, fa parte telefonica, sui avanti la ripostazione, che è un appello tradizionale. Il dispositivo, votre livello è differente, su un appello stabile, libero del vostro computer. Il telefono di camera, dentro del livello, 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 con la presa plug, indica il tutto il livello. La tradizia skydactica, con un unico telefono, che dà il porto 2, studia sia la linea telecamera per la telefonia tradizionale, che internazionale, prima del livello, con la telefonia sui tipi. Questa funzione è disponibile solo quando è un piccolo, gracioso e grande. Il sistema del telefono ha diversa cadenza, per distinguere sulla camera in arrivo dal Skype o dalla linea telefónica tradizionale. i propri prodotti sono comunque utilizzerabili anche con molti altri spazio di telefoni o su internet. Roberto Gianni, vi ringrazio per gli appuntamenti alla prossima. a presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.